La Fortitudo va completandosi. Dopo gli annunci degli arrivi di Andrea Benevelli e del giovane Giacomo Sgorbati, che andranno ad infoltire una panchina già esperta e robusta, resta solo la scelta del lungo titolare da effettuare per consegnare nelle mani di Cocciantimo Martino la squadra che lancerà nuovamente l'assalto ad una delle tre promozioni in Serie A. I tempi per la decisione potrebbero risultare ancora lunghi. La Fortitudo cerca un giocatore che possa essere impiegato sia dalla grande che da centro e che quindi possa essere complementare sia con Stefano Mancinelli che con Giovanni Pini, tenendo presente che Andrea Benevelli sarà il quarto lungo, ma per come è conformata la squadra potrà essere utilizzato anche dalla piccola. Ci si sta muovendo in diverse direzioni, non c'è un identikit preciso e i nomi che stanno scorrendo a ripetizioni in questi giorni non trovano riscontro né tantomeno conferma. Una cosa però è sicura, anche il profilo di questo giocatore dovrà garantire pericolosità offensiva nel gioco fronte a canestro, per dare alla squadra bianco-blu una precisa fisionomia, in buona parte differente rispetto a quella dell'ultima stagione, aumentando di parecchio la pericolosità dal perimetro. L'Aquila non ha comunque fretta di completare il roster. L'impressione è che i tempi si potranno dilatare almeno un'altra decina di giorni, durante i quali coach Martino e il GM Carraretto rimarranno sempre vigili e attenti, nella speranza che qualche buon giocatore possa anche non trovare spazio nella nostra Serie A e quindi si è costretto a scendere di categoria, abbassando anche le pretese economiche.